Piazza Per il Biscito vivrà sempre di più, come vogliono tutti i nostri concittadini, una piazza aperta, una piazza da vivere, una piazza piena di energie e di creatività. Poi quando troviamo anche qualcuno che la considera talmente bella da voler pagare, da voler contribuire a riqualificare i nostri monumenti in un momento di crisi economica, che è ancora più bello, quindi bene, risorse pubbliche e risorse private per il bene comune. Ma non vivrà solo Piazza Per il Biscito, vivrà tutta Napoli aprendo gli spazi a tutti coloro che li vogliono occupare per la cultura, per l'arte, per la musica. Ci dobbiamo abituare al fatto che Napoli vivrà, e questo è un fatto enormemente positivo, di ondate sempre crescenti di turisti. Questo è un bene per l'economia, per il commercio, per la città e bisogna abituarsi a nuovi flussi di traffico umano, quindi regolare meglio la mobilità, rafforzare il trasporto pubblico. Quando viene invasa dai turistici c'è anche qualche disagio, ma questa è la bellezza di essere una delle città più belle del mondo. A Roma è così, è così a Venezia, è così in tutte le città belle del mondo, sarà così anche a Napoli. I napoletani sono contenti che ci sono turisti perché è un motivo di orgoglio per noi, per la nostra città, per la nostra cultura, per le nostre tradizioni, ma anche per la nostra economia. Basta vedere quanti turisti stanno nei negozi e nelle attività produttive della nostra città.